Dantem Group è un'azienda che opera nel settore piscine da circa 60 anni, è un'azienda esperta in diumidificazione e ventilazione dell'aria in questi ambienti molto umidi. Quest'anno abbiamo il piacere di presentare il Danix che è la nostra macchina per eccellenza per il trattamento e la gestione dell'aria all'interno degli ambienti piscina. Il fulcro di questa macchina è lo scambiatore a doppio flusso incrociato che consente un elevato recupero termico. Danix rappresenta una soluzione completa ed efficiente per il trattamento dell'aria all'interno dell'ambiente piscina.